buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione la mia destinazione è oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli a ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà posso pagare qui per il bagaglio in eccesso si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino vuole qualcosa da bere i pasti sono inclusi nel prezzo si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a oslo l'aereo è in ritardo l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa tre ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento buongiorno all'assicurazione medica certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi da due giorni capisco ha vomitato sì ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle a qualche malattia cronica prende farmaci abitualmente no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura alla febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverà il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cos'è incluso nel prezzo dell'alloggio il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera si il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore prego grazie a che ora è il check out il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dove l'ascensore a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego l'è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due avete una prenotazione purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo, ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ore ha aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito, c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo, potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ore ha aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? si vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì, tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie e ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito, c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo, potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert? assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo, ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? si vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? si tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? grazie si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale, balcone e vista mare cos'è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo, potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check-out? il check-out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check-out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si, tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si, tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito, c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo, potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda con gelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale, balcone e vista mare cos'è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito, c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo, potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene, grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo, prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì, tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie, ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no, grazie, ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? si vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? si tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cos'è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda con gelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale? segnale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ore ha aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert? assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cos'è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale? segnale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ore ha aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego l'è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda con gelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego l'è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda con gelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ore ha aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego l'è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda con gelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci 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 buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ore ha aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverà il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno ha l'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale, balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? si ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? si tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? si tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? si vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ore ha aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo, prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì, tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no, grazie e ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check-in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa 3 ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? si ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception? certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera colletto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito, c'è l'aria condizionata in camera? sì, il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo, potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene, grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il mini bar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo, prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì, tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie, ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no, grazie, ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? sì può pagare qui sono 15 euro grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere l'apparecchiatura elettronica dalla valigia e metterla nel contenitore non ha dimenticato di togliersi la cintura? sì ho una cintura con elementi metallici si tolga la cintura per favore e attraversi di nuovo il cancello gradisce uno spuntino? vuole qualcosa da bere? i pasti sono inclusi nel prezzo? sì tutti i pasti sono inclusi nel prezzo un piatto caldo sarà servito alle ore 19 allora prenderò un panino con salmone e succo d'arancia grazie può dirmi esattamente quando atterreremo a Oslo? l'aereo è in ritardo? l'aereo è leggermente in ritardo a causa del vento forte dovremmo atterrare in circa tre ore grazie mille le posso aiutare con qualcos'altro? ho un'altra richiesta posso avere delle cuffie insonorizzate? sì tra un attimo le porto un set di cuffie grazie buongiorno sono qui in vacanza mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico posso fissare un appuntamento? buongiorno all'assicurazione medica? certo ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio aspetti un minuto chiederò al medico se accetterà di riceverla le sarei molto grato sarà ricevuto oggi posso chiedere la sua carta d'identità? ottimo prego grazie si sieda per favore e prendere posto in coda signori chi è il prossimo in fila? io prego entri per favore buongiorno buongiorno si sieda che succede? ho un dolore forte allo stomaco e alla testa inoltre non ho appetito e ho la tosse da quando ha questi sintomi? da due giorni capisco ha vomitato? sì ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli ha notato altri disturbi? mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi bene innanzitutto devo chiederle ha qualche malattia cronica? prende farmaci abitualmente? no ho problemi di pressione ma l'ho misurata oggi ed i valori erano normali capisco le misuro la temperatura ha la febbre ecco perché si sente debole il termometro ha mostrato 39 gradi si alzi e sollevi la maglietta esamino la sua pancia e ausculto i polmoni bene le fa male? no ok può sedersi i polmoni e i bronchi vanno bene non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome grazie probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale le scriverò una prescrizione per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno al mattino e alla sera se dopo tre giorni i sintomi persistono la prego di contattarmi telefonicamente dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? si riposi a letto oggi beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili la febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale grazie per il suo aiuto prego può ritirare la sua prescrizione presso la reception certo arrivederci arrivederci vorrei ritirare la prescrizione prego allego anche un biglietto da visita dove troverai il numero di telefono del medico grazie mille arrivederci buongiorno avete stanze libere? vorrei prenotare una camera doppia buongiorno posso offrirle una camera con letto matrimoniale balcone e vista mare cosa è incluso nel prezzo dell'alloggio? il prezzo comprende colazioni e cene oltre al parcheggio sotterraneo ho capito c'è l'aria condizionata in camera? sì il nostro hotel è dotato di aria condizionata in tal caso vorrei prenotare una camera per due notti d'accordo potrei avere il suo documento d'identità per favore? prego grazie a che ora è il check out? il check out è entro le ore 12 la colazione viene servita dalle 7 alle 11 ecco la chiave della sua stanza è la stanza numero 4 le auguriamo un piacevole soggiorno grazie vorrei chiedere in che forma viene servita la colazione posso ordinare in camera? c'è il buffet per la colazione purtroppo serviamo solo la colazione nel ristorante capisco dov'è l'ascensore? a sinistra delle scale grazie mi scusi ho un problema non c'è acqua calda cercherò di capire cosa è successo posso aiutarla con qualcos'altro? sì vorrei chiedere la password per il wifi la password per internet è nella sua stanza sul tavolo va bene grazie ho un'altra domanda fino a che ora è aperto il bar dell'hotel? fino a mezzanotte inoltre è possibile utilizzare il minibar in camera grazie mille vorrei fare il check out certo prego le è piaciuto il soggiorno nel nostro hotel? sì tutto è andato bene ne sono lieto paga con la carta o in contanti? in contanti grazie ecco il conto ha bisogno di aiuto con la valigia? no grazie ce la faccio arrivederci arrivederci buongiorno 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 ha un tavolo libero per due? avete una prenotazione? purtroppo no ho capito per favore aspettate un momento vedrò se ci sono tavoli liberi al momento abbiamo un tavolo per due un posto vicino alla finestra va bene? certo ottimo seguitemi per favore ecco il vostro tavolo tornerò in pochi minuti gradite qualcosa da bere per cominciare? vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone per favore grazie ecco le bevande siete pronti per le ordinazioni? siamo indecisi potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? consiglio la specialità del nostro chef anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate bene lo prenderemo ottimo il tempo di attesa è di circa 20 minuti gradite assaggiare il vino della nostra cantina? il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra mio marito guida purtroppo ma mi piacerebbe assaggiarlo certo capisco tornerò in un minuto ecco il vostro ordine buon appetito grazie possiamo ordinare subito il dessert assolutamente consiglio la torta di mele calda congelato fantastico cosa ne pensi amore? sì mi piace e due caffè per favore va bene tutto bene? sì l'anatra era deliziosa grazie per il consiglio sono molto contenta dirò allo chef che vi è piaciuto vi porto il dolce tra un attimo fantastico volevo solo chiedere dov'è il bagno? il bagno è vicino all'ingresso sul lato sinistro della guardaroba grazie mille ecco il dessert grazie vorremmo chiedere un conto certo pagherà con carta o con tanti? con carta porto il conto ottimo grazie mille ti piace tesoro? è un po' troppo dolce per me sono d'accordo ecco il conto pagherà contactless o tramite PIN? contactless grazie siamo stati lieti di ospitarvi grazie torneremo sicuramente non dimenticare la mancia giusto buongiorno vorrei fare il check in buongiorno qual è la sua destinazione? la mia destinazione è Oslo posso chiederle il passaporto e il biglietto aereo? certo prego grazie preferisce un posto accanto al finestrino o sul corridoio? vorrei un posto vicino al finestrino bene quanti bagagli ha? ho solo un bagaglio a mano metta il bagaglio sulla bilancia per favore purtroppo il suo bagaglio è troppo pesante il peso consentito del bagaglio a mano è di 10 kg mentre il suo bagaglio pesa 12 kg dovrà pagare un costo aggiuntivo capisco quanto costerà? posso pagare qui per il bagaglio in eccesso? si può pagare qui sono 15 euro grazie grazie ecco la sua carta d'imbarco ed ecco il suo passaporto grazie può dirmi qual è il mio gate? il suo aereo parte dal gate 7 naturalmente prima deve passare per i controlli di sicurezza certo grazie mille inserisca il codice della carta d'imbarco sul lettore per favore metta la valigia e tutti gli oggetti metallici nel cestello di plastica sul nastro trasportatore bisogna inoltre rimuovere la pietra